Stava picchiando brutalmente il padre di 82 anni quando sono intervenuti i carabinieri di San Martino di Lupari e di Cittadella a bloccarlo. È successo a Gran Torto nella serata di giovedì. L'uomo, un 45enne del posto, all'arrivo dei sanitari del SUEM 118, si è scagliato contro gli operatori colpendo il medico con calcio alle gambe e infine rivolgeva la sua furia verso i carabinieri. Il 45enne è stato quindi immobilizzato, arrestato e trasportato all'ospedale di Cittadella dove è stato ricoverato nel reparto psichiatrico. Ora dovrà rispondere dei reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.